Siamo con il mister Andrea Tricarico, il mister del Rende a cui diamo il benvenuto in diretta sulle nostre frequenze per commentare questo pari, il secondo punto stagionale per il Rende e soprattutto un punto importante con il Rende che ha giocato una gara con il giusto piglio senza rinunciare alle ripartenze e ha conquistato questo 0-0. Buonasera a tutti, risultato nel complesso molto giusto, ho visto grande spirito di sacrificio dei miei ragazzi, molta disponibilità, raddoppi sistematici quello che io avevo chiesto in settimana perché venire al Partenio contro una squadra forte e bene organizzata non era assolutamente facile anche in virtù dell'aspetto mentale dove non siamo a mille, quindi i complimenti per i miei ragazzi sono doppi perché hanno dato davvero l'animo. Andiamo un po' nell'analisi, nel dettaglio di questa partita, calcio di rigore parato, nell'avvio di ripresa dal suo estremo difensore a Di Paolo Antonio nel finale doppia traversa, insomma il Rende poteva perderla ma ha rischiato anche di vincerla questa gara. Sì, come capita molto spesso nel nostro sfavore su decisioni, dubbie, fischiano sempre a favore loro, il rigore secondo me è un pochettino generoso è stato bravo Savelloni, poi alla fine potevamo anche, se fossimo stati precisi nell'ultimo passaggio, potevamo tornare a casa con qualcosina in più però secondo me il pareggio è il risultato più giusto. Come ha visto questo Avellino che non riesce più a segnare da quattro giornate, vi aspettavate una partita così? Soprattutto come va la sua avventura sulla panchina del Rende? Da vice a primo allenatore l'abbiamo vista grintoso per tutto il match, non fermarsi un istante. Ho l'obbligo e il dovere da comportarmi da tale, essendo un dipendente del Rende devo fare quelle che sono le direttive societarie. Arriverà sicuramente l'allenatore in virtù del fatto che io non posso comunque allenare, fin quando ci sarò io trasmetterò il mio spirito e il mio modo di intendere calcio. Sonia, passo l'auricolare a mister Tricarico, le chiedo di adagiarlo all'orecchio, andiamo pure con una domanda da studio, richiedo di essere veloce perché mister Ignoffo sta attendendo pazientemente. Buonasera mister, sarò velocissima. Lei prima ha sottolineato una problematica della sua squadra che riguarda l'aspetto mentale. In virtù di questo quanto sarà fondamentale, quanto è stato fondamentale raccogliere un punticino al partenio e soprattutto anche per come è arrivato il rigore sbagliato dall'Avellino? Possono essere segnali positivi anche per quanto riguarda l'aspetto caratteriale di questa squadra? Assolutamente sì, è un aspetto fondamentale voglio dire, è un punto sulla quale si può assolutamente ripartire. Come si riacquista la fiducia? Giocando sulle certezze, sacrificandosi più del dovuto. Quindi solo attraverso il lavoro si può riacquisire una giusta mentalità per giocare a calcio. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Un ultimissimo, Sonia, la facciamo sulla Salernitana che ha pareggiato con il Frosinone, tricarico ex di turno e poi davvero da mister Ignoffo. Seguo sempre con molta attenzione le sorti della Salernitana, quest'anno sta facendo bene, non posso che augurare il meglio con una promozione.